Nella mattinata di ieri, 12 gennaio, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione all'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di tre indagati sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di bancarotta per distrazione e documentale. In particolare sono stati disposti gli arresti domicilari per MS del 1963 e la misura interdettiva del divieto per esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche per un anno nei confronti dei figli AS del 1991 e ES del 1988. Le indagini condotte dalla sessione di Polizia Giudiziaria Aliquota, Guardia di Finanza della Procura di Catanzaro e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Capoluogo hanno preso avvio dal fallimento di una ditta individuale nel 2017 e di due società nel 2019 operanti nel settore dell'organizzazione di spettacoli ed eventi musicali. L'ipotesi è anche che le imprese dichiarate fallite farebbero parte di una holding societaria riconducibile alla stessa famiglia operante nello stesso contesto economico e territoriale in relazione alle quali sarebbe intervenuta la presunta distrazione di rilevanti somme di danaro con la irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie. Il procedimento per l'ipotesi di reato è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Grazie le spettacolo. Hogradato Mi